Un contratto da 3 milioni e 300 mila euro per esportare in Albania l'eccellenza tecnologica del Piemonte e il progetto First Registration, finanziato dalla Banca Mondiale nell'ambito del piano LAMP da 56 milioni di dollari che porterà nel paese al di là dell'Adriatico innovativi servizi catastali per gestire al meglio i tributi immobiliari grazie all'ICT. Il CSI Piemonte si è giudicato alla gara d'appalto contro i più importanti gruppi internazionali e per 18 mesi costituirà una base operativa a Tirana. La collaborazione costituisce una grande opportunità anche per le imprese ICT piemontesi che possono attraverso il CSI allargare il loro business in Albania. Portare le nostre best practice piemontesi all'estero competendo contro aziende che provengono da tutta Europa e diventando in questo modo partner del governo albanese in un importante progetto di digitalizzazione che costituisce uno degli assi principali del governo albanese in particolare per la creazione del nuovo catastro. L'internazionalizzazione è uno degli assi portanti su cui si sviluppa l'azione del CSI Piemonte che lavora con le aziende ICT del territorio per far fruttare i rispettivi punti di forza e cogliere tutte le opportunità di crescita. Dal 2005 il CSI Piemonte ha infatti condotto oltre 50 progetti internazionali per un valore superiore ai 10 milioni di euro a favore di oltre 20 istituzioni beneficiari in più di 30 paesi nel mondo. In questo momento in gare di cui aspettiamo l'esito in circa 30 paesi, quindi ormai questa attività di internazionalizzazione è diventata non più un'attività sporadica ma un'attività sistematica che fa parte del nostro core business e da cui ci aspettiamo grandi risultati nei prossimi mesi e anni. Il progetto First Registration in Albania coinvolge 10 italiani che lavoreranno a stretto contatto con le aziende albanesi per mappare 135.000 proprietà dislocate su 73 aree rurali del paese in 800 km2 di territorio.